confucio confucio 551 avanti cristo 479 in massime dice coloro con cui possiamo studiare insieme non necessariamente sono all'altezza di accompagnarci nella ricerca del dao dao significa la via del pensiero dell'agire umano del governare eccetera coloro con cui possiamo accompagnarci nella ricerca del dao non necessariamente sono all'altezza di raggiungerlo con noi coloro con cui abbiamo insieme raggiunto il dao non necessariamente sono all'altezza di esercitare insieme a noi la valutazione morale 9,29 commento la morale dell'esistere e il raggiungimento massimo degli evoluti di tutti i tempi